Il nostro centro deve essere il centro dei nostri pensieri e del nostro lavoro. La prima cosa che facciamo è pensare alla famiglia, perché la famiglia è quella che starà di più con lui, quindi dobbiamo capire la famiglia che tipo di approccio vuole avere con noi, se si vuole abbandonare a noi o se vuole collaborare con noi. Dobbiamo in qualche modo capire quali sono i canali giusti per parlare con la famiglia e con il bambino. Bisogna avere delle doti verbali, non verbali, paraverbali di un certo tipo. E poi dentro ci mettiamo tutto il resto, cioè la osteopatia, la kinesiologia, la fisioterapia, ma per fisioterapia intendo tutte le figure sanitarie, l'ortodista, il logopedista, il neuropsychomotricista dell'età evolutiva, la medicina convenzionale e quella non convenzionale, l'ortopedico e fisioterapia con cui collaboriamo. Quindi tutti questi soggetti gravitano intorno a loro, ai bambini. E per noi è importante, perché io con i bambini ci lavoro tantissimo, ci lavoravo già prima di avere Carlo e continuo a lavorarci. Allora, il mio intervento è quando, come e perché. Allora, in quando me l'avete in qualche modo dato voi, nel senso che quando io ho iniziato a diventare parte integrante della rete, le domande venivano fuori, i dubbi, le richieste di suggerimento erano legate a tutta una serie di aspetti che partivano dal pre-nascita per arrivare fino alla fine, alla post-nascita. Allora, cosa vuol dire? Nel senso che quando alla nascita molti genitori, c'è chi ha avuto la fortuna di saperlo prima, come durante la morfologica, chi ha avuto tra virgolette lo shock di saperlo nel momento del parto e avere un counseling, cioè qualcuno che venga lì e ti spieghi esattamente di cosa stiamo parlando, che ti renda consapevole, diventa molto importante e spesso nel curbion della situazione, questo non vi è lasciato un attimino al caso. È importante, oltre... passo di passo. Importante, magari durante i gestetti, il finito dei gestetti, perché molti di voi ad esempio hanno descritto un aumento di coliche, difficoltà del bambino nei movimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora l'abilitatore vi può spiegare alcune cose, o può aiutarvi, vi può aiutare con l'osteopatia, vi può aiutare con il massaggio perché vi insegna a fare alcune tecniche per migliorare le coliche grassose. Perché il bambino, secondo voi, perché sgambetta da piccolo? Solo e sicuramente perché ha un piacere di, diciamo, provare? È un meccanismo che è necessario anche per mantenere attivi certi tipi di sistemi, tipo quello di giurente, quindi l'avere il gestetto in qualche modo limita in alcuni bambini, non in tutti, può portare questo problema, cioè aumento delle coliche. Cosa può fare un genitore? Può imparare a massaggiare il bambino, può imparare delle tecniche che possono in qualche modo ridurre queste sensazioni. Durante l'utilizzo del dottore consenti, durante l'utilizzo del dottore consenti perché? Perché molti di voi, ad esempio, hanno avuto il problema delle piaghe, cioè nel senso che a un certo punto la scarpetta piegava, oppure ho preso la sesta malattia, oppure ha la febbra 40 e non lo sopporta. Cosa faccio? Glielo tolgo? Oddio no! Devo segnarlo 23 ore al giorno. Non è vero, cioè nel senso che se io ho delle armi, ho qualcosa nelle mie mani, nella mia consapevolezza di quello che sto facendo, in realtà posso momentaneamente sopperire al non utilizzo del dottore. In quella giornata che il bambino è particolarmente fastidioso, in quel tre giorni che ha la stessa malattia mentre gli anche il tutore è un problema. E quindi posso farmi insegnare da chi si occupa di riabilitazione delle manovre che in qualche modo non fanno perdere memoria a quel tessuto perché il tutore fondamentalmente, ormai siete tutti gli esperti e l'avete capito, non è la correzione, cioè la correzione viene fatta a monte. Il tutore è un meccanismo per mantenere una correzione e molto efficace. Al termine appunto le consenti, perché ad esempio io quello che non accetto da tutti i miei colleghi ortopedici è il fatto che loro non lo svezzino, che poi andavano una visita e a un certo punto loro vi dicono da domani non lo metti più. Non è giusto, non è giusto perché il sistema per un ton di tempo, di anni è, si è abituato a un certo tipo di stimolo e allora lentamente questo stimolo va in qualche modo svezzato. Va svezzato il tutore, va svezzato attraverso certi tipi di lavori e poi anche qui durante l'attrescimento per valutare il lavoro dei sistemi, nel senso che comunque i nostri figli sono figli dati con un piede top con genito e nella loro embriologia, fibriologia, nel loro DNA, questo ci sarà sempre. Se voi parlate con adulti che hanno purtroppo, vabbè, lasciam perdere chi è stato distrutto dal piede top con genito, parliamo di adulti che hanno avuto la fortuna di avere un piede top con genito lieve oppure in quelli che comunque hanno avuto dei genitori che magari non hanno deciso di non intervenire. Per loro la posizione è comoda, è questa, eh? Cioè nel senso glielo chiedete per loro, quello è il ritorno embriologico di posizione, comunque è sempre quello, quindi questo non ce lo dobbiamo limitare. Cosa facciamo noi? Allora, prima cosa monitoriamo? Non si può non monitorare. Come faccio a capire se il bambino migliora se io non ho qualcosa alla mano? Ragazzi io me lo ho 40 persone alla settimana? Se io non mi scrivessi tutto, non mi facessi le fotografie, non prendessi le impronte o cose di questo genere, questo non è giocato, ovviamente quando è nato e poi andando avanti il suo cambiamento, questo è forse l'anno scorso o più o meno, avrei grosse difficoltà, cioè nel senso che comunque io devo monitorare il paziente, ma anche io i genitori lo posso monitorare, cioè nel senso che molti di voi mettevano le foto, ma secondo voi è migliorato, è peggiorato? Ad esempio Roberta ha monitorato suo figlio e quindi oltre a avere la conferma del tecnico, del suo ortopedico che le cose stavano andando bene, l'ha avuta lei di ritorno perché lei comunque ha monitorato il suo figlio e questo è importante, noi non ci dobbiamo abbandonare agli altri, non ci dobbiamo abbandonare al medico, al fisioterapista, noi dobbiamo essere responsabili della nostra salute, questa è la prima cosa, e noi operatori sanitari dobbiamo essere il vostro tramite, e questa è la cosa importante. Massaggio, cancer, io qua di città, veda giù funzionale, osteopatia, allora tutte queste bellissime cose, tutto ciò che è possibile fare attraverso le mani, attraverso l'utilizzo di alcuni tipi di ambienti, tipo l'acqua, quello che è possibile fare di facilitazione, il danno funzionale drink up in alcune situazioni può essere una facilitazione, quindi può aiutare comunque il bambino ad avere un tipo di spinta in più, nel senso che i bambini hanno delle spinte del crescimento, a un certo punto questa spinta del crescimento si rallenta, da più di nuova riparte, e in alcuni momenti avere questo aspetto che in qualche modo è incisivo, è veramente importante. Psicomatricità ha già uno sport proprio aggettiva, allora questo è un abito un po' più tecnico, nel senso che sono aspetti che nascono poi quando il nostro istinto vuole in qualche modo andare a correggere maggiormente determinati deficit che possono essere presenti, o perché il bambino non è partito in modo corretto da con il tutore, cioè con il metodo consenti, oppure perché c'è un deficit. Questo ad esempio, è sempre Carlo ovviamente, anche perché non volevo mettere foto di altri bambini che abbiano trattato, questo è un meccanismo, è un dispositivo che ha inventato mio marito, noi l'abbiamo utilizzato tantissimo con lui, non l'abbiamo preventato ma non l'abbiamo ancora proposto a nessuno fondamentalmente, perché noi per lui abbiamo fatto tutto, cioè tutto quello che ci potevamo immaginare, come immagino tutti i genitori che sono presenti in questa sala, salto, e poi dopo nel video ne vedrete delle cose che si possono proporre ai bambini, ma lo sapete forse meglio di me, perché comunque immagino che tutti voi si siano in qualche modo cimentati nel trovare qualcosa che potesse essere migliore. L'ultima cosa importante poi, per me, diventa l'aspetto più globale, cioè la valutazione posturale e l'eventuale riprogrammazione. Cosa vuol dire? Il bambino finisce il suo percorso, toglie il tutore e iniziano ad esserci certi tipi di osservazioni sul bambino, nel senso che indipendentemente dal fatto che il bambino si è nato con il piede torto, tutti i bambini possono teoricamente sviluppare altri tipi di disfunzioni, ipercifosi, iperlordosi, scogliosi, problematiche della colonna, eccetera, eccetera. Allora, quanto il discorso del piede torto può influire in questo aspetto? Dobbiamo dimenticarcelo, dobbiamo tenere in considerazione? Perché è importante. E allora noi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un'analisi, la valutazione posturale è una cosa molto lunga e particolare, comunque andiamo ad analizzare come il nostro sistema si comporta sui vari piani e lo facciamo non per cercare la perfezione o la simmetria, lo facciamo per cercare di trovare un'armonia del sistema. Ed è il motivo per cui sapere, ad esempio, se un bambino è stato affetto da piede torto e ha avuto un certo tipo di percorso diventa importante, perché io posso poi iniziare a fare dei riservimenti su se la problematica è ascendente o discendente, quindi se il problema arriva dalla zona modalica oppure è di alta origine. Posso andare a fare delle valutazioni, perché noi siamo un orologio con dei meccanismi. Se io sto così, le ginocchia inizieranno ad andare all'imbaro e poi il bacino si dovrà compensare, la schiena di conseguenza, esattamente come se io sono eccessivamente in valgo, le ginocchia andranno in una situazione di AX, quindi per capirci in valgo, e bacino, schiena, eccetera, eccetera, si dovranno compensare. Quindi, l'aspetto importante è, ok, è corretto il piede, ok, ma questo piede in quel sistema ci sta? Cioè, nel sistema bambino, in quel bambino che aveva mamma e papà con un certo tipo di, comunque, già patrimonio genetico, è corretto, ci sta? Ha bisogno di essere aiutato? Posso fare qualcosa? Allora, a questo punto, perché forse vi siete dati da soli, però nel senso perché, allora, la fisioterapia, la riabilitazione non deve essere l'ultima razio, non deve essere l'unico approccio, ma soprattutto non deve essere in antitesi al metodo, cioè nel senso che quello che deve essere chiaro, noi abbiamo una scuola di formazione, io e mio marito, mio marito, perché mio marito è una persona eccezionale da tutti i punti di vista, e lo dico veramente con il cuore, ha creato questa scuola di formazione fondamentalmente per un motivo, perché lui ama formare gli operatori, e noi, a tutti i nostri operatori, da quello che viene a fare il corso per imparare la strumentale, a quello che viene a fare la scuola di osteopatia, insegniamo che cos'è il piede torto, perché un domani, magari non avrà mai un paziente col piede torto, ma magari l'amico dell'amico del suo ero, della fratella della sorella nascerà col piede torto, e quello che hanno fatto tutte queste famiglie, che abbiamo fatto tutti insieme, è stato importante per questo, perché otto anni fa tutto quello che c'è oggi, che si può sapere oggi, non c'era, e quindi è molto molto importante creare rete, creare informazione, dare la possibilità dal basso, dai familiari, arrivando all'operatore sanitario, di conoscere che cos'è questa disfunzione, che cos'è questa patologia, quindi perché diventa importante la reabilitazione? Diventa importante perché anatomia e funzioni sono infiattipendenti, io posso correggere l'anatomia del piede, ma la funzione è altrettanto importante, e se la funzione non va bene, nella fase di accrescimento successiva, quindi dopo i sei anni, se tutto lo segno è in sei anni, l'anatomia può di nuovo cambiare, non tornerà il piede torto magari, però le spitte sulle ossa, che hanno ancora delle cartiere di accrescimento, hanno bisogno ovunque di essere tenute sotto controllo. Ogni tipo di tutore crea un deficit, non c'è un tutore di tutore perfetto, nel senso che il tutore con sedi è il migliore che ci sia per il mantenimento di questa struttura, ma qualunque tutore gli utilizzi, che sia per risolvere un problema di scogliose, che sia per risolvere un problema di un piede torto, crea un deficit. E questo deficit lo posso colmare solo dando delle informazioni, riallenando il sistema. Perché noi fondamentalmente non siamo un computer on-off, noi viviamo di una serie di variabili, noi, le nostre variabili sono la famiglia, la scuola, la parte emotiva, tutto quello che c'è all'interno del sistema. Quindi è impensabile che in qualche modo non ci sia bisogno di qualcosa che possa in qualche modo aiutare il soggetto a ritrovare un proprio equilibrio lentamente nel sistema. Perché? Purtroppo tra di voi ce ne sono tanti, ci sono delle lacune che purtroppo il metodo consente per quanto si sia impegnato nel risolvere ha trovato degli scontri perché a causa dei danni gli atrogeni, quindi dei danni da parte degli operatori sanitari precedenti che sono importanti. Ed è il problema più diffuso, perché quando da noi arrivano i pazienti dopo che hanno migrato 5-6 mesi, risolvere quei problemi è la cosa più difficile. bisogna veramente metterci di impegno. E poi perché il piede torto non è una distruzione codalica. Ed è questo stato la genialità di consenti. Tutti continuano, chi si ostina, difende la spada tratta e va avanti come uno e non vuole vedere altre cose, si ostinano a non capire che la genialità di quest'uomo è stato questo. Il fatto che un uomo che in una fase dove il medico non era né che prescriveva la risonanza, che mandava fare la risonanza, no, lui concava, balpava, faceva fondamentalmente quello, ha capito che doveva trovare un modo per ripristinare un equilibrio che fosse generale. Generale partendo dalla punta del piede per arrivare all'anca. Ha capito come manipolare la struttura perché probabilmente era un grande anatomista, sapeva dove mettere le mani. E soprattutto ha capito che c'era un discorso di embriologia che se io per nove mesi, quando questo meccanismo, perché oggi si continua a dire no, il piede torto non si sa che cosa, come mai venga fuori. B, allora, se si guarda un po' oltre il nostro naso, il piede torto molto probabilmente è un rallentamento metabolico, nel senso che a un certo punto nel sistema di svolgimento e svolgimento dell'embrione, questo meccanismo di svolgimento dell'ardo inferiore non avviene. Allora, se questo sistema embriologico ha una memoria, ma io non posso pensare di correggere e sto, e lui in questo, forse anche non sapendolo, ma del suo forse amore, genialità del lavoro che faceva, della purezza probabilmente con cui lo faceva, è riuscito a capirlo, a capire che c'era bisogno del duttore, che c'era bisogno di mantenere un certo tipo di appoggio, eccetera. Mio figlio non ha fatto i gesti, io di fatto non ho fatto il metodo con se lì come lo può aver fatto qualcuno che è iniziato il primo giorno con uno dei tanti medici che grazie a Dio hanno deciso di fare questo percorso. Però mio figlio sta benissimo, perché noi abbiamo ragionato esattamente allo stesso modo, correggo, quando sono arrivata alla correzione devo trovare qualcosa che stabilizzi, e lì poi ho avuto la fortuna di, grazie all'area, all'internet, oggi può essere, può creare tanti danni, ma grazie a Dio ne può anche creare, creare tante cose belle, abbiamo trovato il duttore, abbiamo iniziato a capire, abbiamo iniziato a conoscere il gruppo e poi come immagino tutti, sappiamo cosa dire, insomma. Vi presento, non mi sono voluta presentare prima perché bene, io per i miei pazienti non mi faccio chiamare dottoressa, io sono Emiliana, per tutti, do del lei alle persone di una certa età perché così mi ha insegnato mia mamma e mio papà, dove il tuo a chi se lo vuoi far dare me lo faccio dare senza problemi, perché secondo me le etichette non servono assolutamente niente. Ho fatto tante cose e tutte le cose che ho fatto le devo dire grazie a mio marito, perché lui ama studiare e trasmette questo e abbiamo deciso di creare questo istituto proprio con questo intento, cioè per trasmettere agli operatori sanitari l'amore, l'amore per quello che si fa. Non si può pensare di fare questo lavoro come si fa, ma non esiste un lavoro che si fa così, cioè ognuno di noi, dovrebbe anche la signora delle pulizie, dovrebbe capire, cioè dovrebbe essere consapevole che quello è quello che le piace fare, cioè nel senso che ognuno di noi, poi purtroppo è un'utopia, però ognuno di noi dovrebbe avere la possibilità di fare un lavoro di quelle mode delle proprie corde, quindi dobbiamo smetterla di pensare di fare un certo tipo di lavoro perché può essere economicamente, diciamo, creare una retribuzione maggiore, eccetera, eccetera, oppure chissà che cosa. Fare un lavoro con il materiale umano vuol dire dover fare delle scelte di vita di un certo tipo. Quindi gli operatori devono formarsi secondo un certo tipo di approccio, che non è solo imparo la tecnica, ma è anche imparo ad applicare la tecnica sul materiale umano. Allora, vi faccio vedere un brevissimo video che dura tre minuti dove mi ho fatto un riassunto di tutte le cose che abbiamo fatto con Carlo. Mi auto-referenzio facendo gli auguri a mio marito, perché oggi è il suo compleanno, ma lui era impegnato con un corso da cui appunto sono cucita. Questo glielo dedico, glielo dedico perché questo istituto che in qualche modo vuole aiutare, aiutare la rete è suo e quindi io oggi gli auguro che questo istituto abbia tantissima fortuna. Grazie. 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 Buongiorno 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 Ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando con tuo vento al riso al vero, magari poco o niente ma ci sarò. E questo è l'importante acqua sarà, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando con tuo vento. Tanto il tempo solo lui lo sa, quando e come finirà, la tua sofferenza e il tuo lamento c'è. Quel vuoto che lo sa, che poi non nasci mai, che brucia nelle vere come se il mondo è con te e tu non sai perché, lo so e me lo ricanto bene. Io sono, per ascoltare un sogno non parlerò, se non ne avrai bisogno ma ci sarò, perché così mi sento accanto a te, viaggiando con tuo vento al riso al vero. Magari poco o niente ma ci sarò, magari poco o niente ma ci sarò, e questo è l'importante acqua sarà, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando con tuo vento. E questo è l'importante acqua sarà, che spegnerà un momento accanto a te, viaggiando con tuo vento. Grazie.